Sale di livello la tensione nella guerra commerciale che da settimane oppone Unione Europea e Cina. Bruxelles sarebbe in procinto di presentare un reclamo ufficiale all'Organizzazione Mondiale del Commercio contro i dazi doganali sulle importazioni di tubi in acciaio inox dal vecchio continente. L'Europa andrebbe così ad affiancarsi al Giappone che aveva presentato il suo esposto già a dicembre dello scorso anno. La richiesta andrà nella direzione di una modifica delle tariffe che pesano sui prodotti di aziende come la spagnola Tubacex o la tedesca Salzgitter. Grazie a tutti.